Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Marta e devo prendere un po' di sole perché sono bianchissima, cioè io non lo so Vabbè, diciamo che questa quarantena mi ha fatto veramente male perché non ho mai preso un briciolo di sole Comunque, bando alle ciance, oggi potete capire il tema del video dalla mia maglietta e dallo sfondo Diciamo che lo sfondo dà un indizio e la maglietta un altro Completa diciamo il quadro e abbiamo un pacchettino, sembra piccolino però contiene delle gran belle cose Quindi direi di iniziare subito e andiamo ad aprire insieme questo pacchettino, io in realtà l'ho già aperto e infatti il pacco è vuoto Però l'ho tenuto perché volevo farvi vedere come sono arrivati i prodotti Perché sono arrivati imballati super super bene, c'era sia la carta di giornale che il pluriball Si chiama pluriball? Vabbè comunque le bolle, quelle che si fanno scoppiare Sono bellissime, cioè queste sono una droga Cioè potrei fare un video in cui scoppio queste Se vi interessa ditemelo facciamo un video smr in cui faccio scoppiare le bolle Ah vabbè ok, la smetto, la smetto Mettiamo da parte questo per vedere assieme il vero contenuto di questo pacchettino Che non vi ho ancora detto ma mi è stato inviato da HD Toys È uno shop però esclusivamente online che vende Funko Pop particolari, un po' rari Visto che i regular si trovano ovunque ormai Loro hanno voluto concentrarsi solo e esclusivamente sui bollinati, sui rari Su tutti quei Funko Pop che sono più difficili da trovare E quindi di proporli diciamo dei prezzi di mercato buoni Perché se andate a comprare certi pezzi da privati vi chiedono un rene Da loro invece i prezzi sono veramente ottimi Anzi a volte trovate anche qualcosa in sconto Sui preordini ci sono degli sconti eccetera eccetera Quindi vi consiglio di andare a dare un occhio Soprattutto se siete collezionisti come me fissati con i bollini Perché hanno tutti i prodotti ovviamente super originali Con bollini originali, non bollini di importazione E ha ottimi prezzi Adesso vi mostro anche quello che ho scelto io Che tra l'altro è arrivato all'interno dei protector Se mi seguite su Instagram avete visto le stories dello spacchettamento Quindi le avete viste nel protector Io adesso li ho già tolti perché sono molto fissata con le scatole Quindi continuare a mettere e togliere il pop dal protector non è una gran cosa Quindi visto che le avevo già tolti per fare le stories Non mi sembrava il caso di rimetterli, richiuderli Cioè no Li ho tenuti direttamente fuori Prima di mostrarvi i prodotti però devo dirvi un'ultima cosa Questo video è in collaborazione ma non sponsorizzato da HD Toys Che mi ha voluto fornire un codice sconto per voi Io sono sempre ben contenta quando ci sono codici sconto Perché so che voi siete contenti Io non ci guadagno assolutamente niente Magari ci guadagnassi Comunque il codice sconto è Marta10 Ve lo scrivo qui e ve lo lascio anche nell'info box Con il link al sito e tutto E vi da diritto al 10% di sconto Su una spesa minima di 40 euro Valida fino al 26 giugno se non ricordo male E non è valida sui preordini Cioè valida su tutto tranne che sui preordini Quindi su quello che vedete in stock Tra l'altro sono anche appena arrivati un po' di chicche interessanti Quindi fossi in voi andrei a dare uno sguardo E niente bando alle ciance Arriviamo ai pezzi importanti Il contenuto di questo pacco Quindi il fulcro di questo unboxing Che sono loro due Allora Da quale partiamo? Ambarapaccicci cocode Partiamo da questo Allora Qui abbiamo Bambi Cioè guardate quanto è bello Poi adesso comunque li apriamo Anche li vediamo fuori dalla scatola Questo Bambi è un'esclusiva di una Disney Treasure Quindi una di quelle box che erano state create in esclusiva Della Disney E uscivano una volta ogni due mesi se non sbaglio Adesso non so perché non escono più Boh Comunque questo qui quindi faceva parte di una box È come Dumbo Non so se vi ricordate il mio Baby Dumbo Però Baby Dumbo non ha il bollino Disney Treasure Ha solo il bollino Otopic Quindi questo qui è il mio primo bollino Disney Treasure In più è il mio primo Bambi Perché l'altro Bambi è costosetto E non sono ancora riuscita a recuperarlo E questo è bellissimo perché è la scena in cui scivola sul ghiaccio Quindi è stupendo Poi ovviamente le condizioni sono perfettissime La box è veramente perfetta Adesso lo vado ad aprire Vi consiglio quando aprite Funko Pop Per non lasciare il segno Se voi fate così e lo aprite da qui Lasciate il segno del dito È una cosa che non sopporto Dovete cercare di rialzare gli angolini Qua è già aperto Se non ce la fate Io di solito o spingo Tengo qui vedete E spingo leggermente in modo da sbloccarlo Oppure vado con una carta di credito E lo apro in quel modo In modo da non lasciare alcun tipo di segno Poi ovviamente pian piano le linguette Ed eccolo qui Quanto è bello Ma guardate che meraviglia Cioè quando l'ho visto sul loro sito Ho detto no Cioè questo qui lo volevo tantissimo Lo desideravo veramente tanto È qualcosa di spettacolare È veramente bellissimo È super super carino Non so perché me lo immaginavo più grande Me lo immaginavo un po' più tipo Madame Maxim Una cosa un po' più grossa E invece è così piccino Ma forse anche meglio Perché poi me lo vado di più Perché quelli grandi alla fine Vanno sempre sopra E li vedo meno Quelli piccoli invece stanno qui Tra l'altro è 351 Quindi indicativamente dovrebbe stare qui Sì All'incirca Poco sopra l'inquadratura Quindi proprio ad altezza occhi Mia per il momento Finché non prenderò un nuovo mobile Perché il problema adesso ragazzi È che ho una quindicina di pop Fuori dal mobile E non so dove metterli Quindi cercherò di prendere il più presto possibile il mobile E niente Questo è veramente qualcosa di meraviglioso Vabbè che tutti i pop sono belli Ma questo mi piace veramente Veramente tanto E sono super super contenta Perché è un pezzo che desideravo molto E niente È stupendo È stupendo Vabbè lo sapete che io continuo a dire Sempre che sono belli Stupendi Vabbè tagliamo corto E passiamo al successivo E il secondo pop È lei Cioè Ma quanto è bella Non sono ancora riuscita A recuperarla In versione regular Però ho Tutti gli altri Tranne il Genio Glow E lei è in versione Desert Moon Che è un'esclusiva Utopic Però questa è spettacolare Questa è la versione glitterata La versione Diamond Esclusiva Funko Shop Ragazzi È la mia prima Diamond La mia prima Funko Shop No sono veramente senza parole È qualcosa di meraviglioso Ovviamente anche qui La scatola è perfetta E andiamo ad aprirla Qua ha già la linguetta Un pochettino Aperta Quindi vedete Si apre in un secondo Lei ovviamente ha anche la basetta Perché se no non si reggerebbe Infatti Volevo appoggiarla sul puff Per fare la stories Come per bambi Ma non rimaneva in piedi Ho dovuto tenerla io in mano Cioè Guardate È qualcosa Di meraviglioso A parte il glitter Su tutto il vestito Si Solo il vestito è glitterato Ma i dettagli I dettagli sono qualcosa di Spettacolare Anche La corona Diciamo Il vestito Il velo Gli orecchini Cioè È proprio stupenda Questo pop Secondo me È fatto Veramente Veramente Bene E allora Non sono una Super 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 fan Dei diamond Nel senso che Tanti mi piacciono Qualcuno non mi fa impazzire Quindi non è che sono al 100% Diciamo un 90% Fan dei diamond Questo è spettacolare Cioè Questo è veramente Qualcosa di meraviglioso E già la versione regular Mi piaceva tantissimo La desidero tantissimo Ma non arriva Non arriva mai È difficilissima da trovare Soprattutto poi In questo periodo In cui la Funko Ha tagliato completamente Le ristampe del vecchio Stava producendo solo il nuovo Non vi dico Però lei è qualcosa Di spettacolare Cioè È veramente Veramente Bella È difficile da trovare Quando l'ho vista da loro E tra l'altro La vendevano in offerta A 25 euro Cioè Ho detto No vabbè Ma è bellissima È veramente bellissima Ah non vi ho detto Il prezzo di Bambi Bambi se non sbaglio Veniva a 40 Che è un prezzo Più che ottimo Essendo un'esclusiva Disney Treasure Essendo comunque Una box Che fuori produzione Da un bel po' Lei forse Si trova ancora Nel Funko Shop Non ne sono sicura Però sicuramente È un pezzo Che si deve avere In collezione Cioè Se vi piace Disney Questo pezzo È veramente Una bomba Secondo me Ah non ve l'ho detto Quella del live action Non del cartone E Infatti qui C'è Tutto il resto Della serie E niente Sono innamorata C'ho questi due pop Sono veramente Uno più bello Dell'altro Più li guardo Più mi innamoro E sono felicissima Di averli in collezione Adesso come vi dicevo Il problema è Trovare spazio per tutti Quello è un grosso problema E quindi niente ragazzi Che altro dire Di queste meraviglie Io veramente Mi sono innamorata Di tutto quello che avevano Non hanno una scelta Vastissima Non è che hanno Un catalogo Da 150 pezzi Però è anche normale Nel senso che Comunque loro ricercano I vari pezzi rari Gli arrivano due Se non sbaglio Con segne Al mese Quindi le novità Le avete solo due volte Al mese Però state attenti Perché come arrivano Finiscono Quindi vi conviene Accaparrarvi al volo Ciò che vi piace Anche perché i prezzi Come vi dicevo Sono ottimi La spedizione è velocissima Non ho fatto in tempo A dirmi Il pacco è stato spedito Che è arrivato È arrivato Il giorno successivo Se non ricordo male Cioè tipo Un pomeriggio l'ha spedito E il pomeriggio dopo Mi è arrivato Quindi top E niente Sono veramente super contenta È un venditore Super affidabile Quindi mi sento Proprio con tutto il cuore Di consigliarvelo Soprattutto se come me Cercate le esclusive Pezzi un po' particolari Infatti quando ho messo le stories Su Instagram Siete impazziti Cioè avete fatto Click sulla pagina Swipe up al sito Che cioè Non mi sarei mai immaginata Ne avete fatti Veramente tantissimi Praticamente Quasi tutti quelli Che hanno visto la stories Hanno fatto Swipe up Quindi non me l'aspettavo proprio E niente ragazzi Vi ricordo il mio codice sconto Io non ci guadagno niente Ve lo ripeto È solo un codice sconto per voi Per fare un regalino a voi Marta 10 Per il 10% di sconto Su una spesa minima Di 40 euro Non valido sui preordini Valido su tutto Tranne i preordini Fino al 26 giugno E ovviamente Come al solito Se acquistate Fatemelo sapere Mandatemi un messaggio Su Instagram Scrivetemi qui sotto Nei commenti Che cosa avete comprato Perché sapete che io sono Sempre super curiosa Quindi devo assolutamente Sapere tutti i vostri acquisti E quindi niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollice in su Così faremo sicuramente Altri video di questo genere E niente Se avete domande Commenti Scrivete tutto qui sotto Io nel frattempo Vi saluto Vi mando un bacione E alla prossima Con un nuovo video Ciao Ciao